Ederson, grande intervento del portiere Inghilterra porta palla nella trequartia avversaria A metri, Hurricane e nel rete Alla in mezzo di Candreva, pericolo, ecco il tiro Il Borussia Park ha preso il posto dal 2004 dello storico Hurricane! Salgono gli difensori per sfruttare questo corner, può essere l'occasione giusta per il vantaggio Dyer, il portiere, devia involontariamente il pallone in porta Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione Dyer, una parata incredibile C'è spazio per andare Attenzione, tutto solo Sturridge! È arrivato il gol È arrivato i ci sono Guardini, è arrivato il giro, è arrivato il giro! Ho seguo!